Oggi la borsa di Tokyo chiusa per festività, riaprirà invece Wall Street dopo la pausa di ieri Shenzhen lievita dallo 0,92% e archivia la seduta a 11.117,1 punti Poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all'ondamento rialzista delle altre borse di Eurolandia. Senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ben comprata Londra, che segna un forte rialzo dell'1,21%, ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto Risultato positivo a piazza affari per il settore vendite al dettaglio, con un più 1,24% sul precedente Allunga timidamente il passo Basikné, che tratta con un modesto progresso dell'1,31% Questo pomeriggio si attende dalla Germania l'annuncio sui prezzi al consumo, e dagli Stati Uniti la diffusione del PMI manifatturiero. Ancora stamattina è in programma il dato sul tasso di disoccupazione della Germania. Domani è in programma il dato sul PMI composito dell'Unione Europea La Germania è in programma il dato sul PMI composito dell'Unione Europea